Signore e signori, per questo gioco abbiamo bisogno di una carta, di un bicchiere, una moneta da 5 centesimi e un cucchiaio. Al mio 3 faremo passare la moneta attraverso la carta e dentro il bicchiere. 1, 2, 3, la carta, il bicchiere, cucchiaio e moneta. Signore e signori, il gioco è riuscito.